Revocato definitivamente il vitalizio da 6.000 euro lordi mensili all'ex presidente della regione Salvatore Cuffaro. La decisione è stata spiegata in sei pagine dall'Avvocatura Generale dello Stato, nelle quali si legge che la perdita dell'assegno vitalizio al condannato in via definitiva ad una pena superiore a 5 anni trova immediato fondamento nel secondo comma dell'articolo 28 e nell'articolo 29 del codice penale rappresentando l'effetto automatico della pena accessoria dell'interdizione in perpetuo e da pubblici uffici. Nei prossimi giorni il presidente dell'ARS Giovanni Ardizzone firmerà il provvedimento di revoca, un provvedimento che adesso potrebbe trovare applicazione anche su altri parlamentari, siano essi nazionali e regionali, che si trovano nella stessa situazione del raffadalese Cuffaro. La perdita del vitalizio deve scattare automaticamente ogni volta che un deputato o consigliere viene condannato in via definitiva e subisce anche la pena accessoria dell'interdizione dei pubblici uffici. Tutti gli enti pubblici dovranno agire secondo le indicazioni espresse dall'Avvocatura dello Stato.